Benvenuti su Gossip Mania TV. Anita Olivieri scatena il caos contro l'ex, ti stai facendo visibilità con me, Alessio Falsone Paura. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Nella dimora del grande fratello, Anita Olivieri ha trovato un nuovo amore inaspettato. Tuttavia, prima di voltare pagina, deve ancora confrontarsi con il suo passato, rappresentato dall'ex fidanzato Edoardo Sanson. Quest'ultimo, rampollo romano e ex fidanzato storico di Anita, è stato scaricato senza mezzi termini dalla ragazza durante la sua permanenza nel reality condotto da Alfonso Signorini. Comprensibilmente, Edoardo non ha gradito il comportamento della ragazza, che si è velocemente avvicinata ad Alessio Falsone dopo poche settimane di conoscenza. Nonostante la volontà di Anita di chiarire la situazione in privato, Sanson ha rifiutato il confronto, spingendo la ragazza a esprimere il suo disappunto sui social. Attraverso il suo profilo Instagram, Anita ha sfogato la sua frustrazione, suggerendo che Sanson avrebbe approfittato della situazione per ottenere visibilità ai nuovi follower. Senza nominarlo esplicitamente, ha scritto, alla fine, nella vita, contano i fatti. A volte, anche io non riconosco più certe persone. Pensavo che fossero riservate e lontane da questi contesti, ma poi vedo un aumento dei follower grazie alla situazione. Sfruttano la situazione, mangiando sopra di essa e iscrivendosi ad un'agenzia televisiva. Il post di Anita è proseguito con toni sempre più piccati, accusando indirettamente Sanson di recitare una parte per ottenere visibilità e sfruttare la situazione a suo vantaggio. Nonostante il rifiuto di Sanson di affrontare la situazione, Anita ha espresso la sua determinazione nel voltare pagina, pubblicando una foto con il suo attuale compagno, Alessio Falsone, con la didascalia, tutto è bene quel che finisce bene. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.